Senti anche tu questo rumore? Ecco, lo senti? No, sei tu! Mamma, ti ho preparato il caffè? A dopo! Ciao mamma! Ma no, frate, da stamattina mi hanno scassato cazzo questa storia del piccino. Della colomba. Ha risuscitato la colomba. Senti! Saremo sempre con te! Mi dovete pagare l'affitto. Trova i soldi, se no v'è una caccia. Mamma! Tutti uguali e gli asposti. Che succede? La gente vuole stare con Anna Luce. Dicono che è una santa. È una santa piccola. Allora facite? Anna Luce prega tutto il giorno con la gente. Una madre va in giro a frire il caffè. Ma quando fai? C'è una strana sensazione, Mario. Non mi sento più quella, tengo quella. Mi sento vuota. Non lo so. Forse Anna Luce ha davvero qualcosa di speciale. Pure il miracolo dei soldi da fatto, è questo? Non ti permettere. Tua sorella è santa e miracolosa. La gente ha bisogno di lei. Com'è? L'adoritàosta.